Noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Adolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crissodono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i tuoi Santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai Suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel greggio dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno vigilia della sua passione, sofferta per la vostra salvezza e nel mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre Suo Onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai Suoi discepoli e disse, Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede In questo sacrificio, Padre, Noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione e la risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore e offriamo alla tua Maestà Divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa e immaculata, Pane santo della vita eterna e calice dell'eterra salvezza. Voggi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele e Giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre della fede, e immoblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti subito, Dio Onnipotente, fate questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio scenda la pienezza di ogni benfrazia e benedizione del cielo. Ricordati, oh Signori,